Maurizio Fugatti, il debito pubblico italiano è aumentato, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che di fronte alle manovre recessive del governo Letta, del governo Monti prima, nonostante i sacrifici chiesti agli italiani, il debito pubblico continua ad aumentare. Ma c'è di più, perché il debito pubblico aumenta anche perché vengono rispettati gli accordi europei. Che cosa sono gli accordi europei? Sono i fondi che l'Italia versa all'Europa per andare incontro alle crisi delle banche, che sono state anche le banche tedesche, alla crisi dei paesi in difficoltà, pensiamo alla Grecia. Quindi per rispettare i trattati europei ci lasciano aumentare il debito pubblico, lo possiamo fare. Mentre per aiutare le famiglie e le imprese per diminuire le tasse questo non lo possiamo fare. Quindi l'Europa che da una parte ci consente per i suoi interessi, per l'interesse generale dell'Europa, di fare il debito pubblico mentre non ce lo fa fare, o comunque ci impone regole pesanti in termini economici per non farci diminuire le tasse, per non andare incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese. Quindi un'Europa che ci fa aumentare il debito pubblico. Trattati europei che per salvare paesi in difficoltà o per salvare banche, anche quelle tedesche, ci fa aumentare il debito pubblico. La medicina invece quale sarebbe? La medicina sarebbe quella di fare un forte intervento in materia di riduzione del carico fiscale e soprattutto andare a ridiscutere le regole europee, che sono quelle regole che finora, in termini di bilancia commerciale, in termini quindi di export ed import, dalla data dell'introduzione dell'euro, cioè dal 2002, hanno fatto solo gli interessi della Germania, perché il dato dice che la Germania giustamente si è fatto i suoi interessi, perché questo è legittimo e i tedeschi magari possono anche far bene e farsi i loro interessi, però ciò ha comportato che per la Germania c'è un avanzo nella sua bilancia commerciale, cioè ci sono più esportazioni e aumentano fortemente le esportazioni per l'Italia, questo invece è andato nel senso opposto.